Il gruppo Prada ha deciso di premiare il rendimento degli oltre 4.000 addetti sul territorio nazionale, di cui 2.400 si trovano nella sola provincia di Arezzo, tra gli stabilimenti del Valdarno e quello a Retino. La decisione è frutto di un accordo nazionale triennale 2023-2025 tra sindacati ed azienda, che in questo momento prevede importi diversi in base alla sede, ma che verranno armonizzati nel corso di 4 anni, comprese le recenti acquisizioni. Si concilia sia una parte economica che una parte in welfare, così tanto amato il linguaggio inglese, che in Prada si traduce nell'utilizzo di una parte economica all'interno di una piattaforma propria, che è la piattaforma AON, un premio che per Arezzo si tradurrà in 1.150 Euro l'orde, più 1.300 Euro in welfare, quindi nella piattaforma. Per il Valdarno è 1.350 Euro, sempre con 1.300 Euro aggiuntive nella piattaforma AON. Quando il welfare non si sostituisce al salario, ma in qualche modo è complementare o comunque di ausilio ai lavoratori, non possiamo che sposare certe iniziative che si traducono in disponibilità maggiore per tutti i lavoratori. E quindi pienamente soddisfatti, perché andiamo in corto a un processo di armonizzazione che in termini di tre anni riuscirà ad includere tutti gli stabilimenti sul territorio nazionale e porterà tutti ad avere un'unica cifra economica che saranno 1.450 Euro, da nord a sud. Quindi un processo di armonizzazione in termini di premialità, ma anche di parte normativa.